Parliamo un attimo della Buella, che è un film di Paco Plaza, è un regista, Paco Plaza, che ha fatto, fondamentalmente è famosissimo per aver fatto i due rec. Ho fatto rec 1 e rec 2, insieme a Jean Balaguerot. La Buella è un film del 2022, questo qua, che mi ha mandato a Midnight Factory, Legami di Sangue, vabbè, il sottotitolo è un po' strano. C'è questa ragazza giovane, faccio vedere anche l'interno. Vediamoci anche il trailer, perché così capite un po' l'atmosfera. Allora, il film lo trovate nel canale Midnight Factory, quindi dovete avere Prime e pagare il canale in più, quindi credo sia intorno ai 5 euro. Io adesso rido, ma poi quando lo vedete nel film, quando vedete la scena nel film, non mi faccia proprio ridere. Allora, allora, film di Paco Plaza, come ho detto, regista di Rec 1 e Rec 2, insieme a Balaguerot. È un film che vede questa ragazza modella, cresciuta solo con la nonna, la abuela. In spagnolo, la abuela significa nonna. Il film, ne ho visto un pezzettino doppiato, mi sembra doppiato anche abbastanza bene. Però sapete che io consiglio sempre di vedere i film in lingua originale. Trovo che in questo caso sia anche molto più, insomma, più d'atmosfera a guardarlo in spagnolo. Anche perché comunque dà anche un senso al titolo, perché lei spesso citerà la abuela, la abuela parlerà di sua nonna durante il film. Quindi secondo me è più interessante. È costretta a tornare a casa, questa modella che vive a Parigi, perché la nonna, l'unica persona che l'ha cresciuta, perché ha perso i genitori da piccola, sta male, insomma, la ricoverano. Quando arriva lei, la nonna praticamente è completamente rincoglionita, non è più autosufficiente, non capisce, non risponde agli stimoli e quindi ha bisogno di una persona che si prenda cura di lei. Lei, ovviamente, molto affezionata a sua nonna perché è come se le avesse fatto da madre, la cura nell'attesa di capire come prendere una badante, anche se appunto all'ospedale le consiglio di metterla in un centro per anziani. Il film ha una fotografia sublime, veramente bellissima, veramente al di sopra di quelle che possono essere fotografie ben fatte. Questa è proprio una fotografia che ti fa godere, ti fa veramente godere. È molto bella, ma non è stucchevole perché non è autoreferenziale, è molto in funzione del film. Riesce anche a essere molto realistica, anche se è così perfetta, così morbida, così sofisticata. Non è stucchevole, non strafa. La Buella è un film molto molto lento, molto lento, che cercherà di farvi entrare tantissimo nei sentimenti della protagonista. Susanna, appunto, interpretata da Almudena Amor, che dire che è una bella donna è riduttivo, è veramente splendida, veramente bellissima, questa attrice, questa, penso anche modella probabilmente, veramente stupenda, veramente brava. Tutta la prima parte, con un ritmo buono, ma appunto non incalzante, serve proprio per scoprire il rapporto intenso di amore che c'è tra lei e sua nonna, la Buella, e per capire quanto questa ragazza sia una ragazza comunque con dei principi, perché molla il suo lavoro, molla un'opportunità di carriera importante, anche se è una modella già di 24 anni, quindi fondamentalmente vecchia per il mondo della moda, lo fa perché non ci sono dubbi su che cosa è più importante per lei e quindi corre ad assistere sua nonna barra madre, perché per lei è una madre. E quindi noi conosceremo lei, conosceremo questa Buella, che ormai è uno zombie, però appunto la conosceremo tramite personaggi secondari, elementi della casa, eccetera, e quindi tutto servirà a entrare dentro la testa di Susanna fino appunto al momento in cui le cose inizieranno a precipitare, perché la Buella inizierà a spaventarci, la nonna inizierà a spaventarci, inizierà a spaventarci perché spaventa Susanna, perché inizierà a sospettare cose, a indagare sul suo passato, e inizieremo a avere paura di ogni angolo della casa e di ogni gesto della nonna, ogni cosa che la nonna può fare. Questo è uno di quelli che definirei un geriatric horror, un horror dove si fa leva sulla paura degli anziani, sulla paura dell'anziano e della sua perdita di contatto con il mondo reale, no? Secondo me è un film discreto, è un bel film per chi ama il genere horror, non vi posso dire troppo perché vi spoilererei che cosa c'è dietro e come appunto procede da un certo punto in poi, quindi non vi voglio rovinare questo aspetto, però se amate il genere horror più puro proprio, quello non vi dico di che cosa, questo è un bel film, questo è un bel film, è veramente una storia dell'orrore raccontata bene, e vi posso dire che se questo film lo guardate con il cellulare spento, al buio, senza interruzioni, senza nessuno che vi rompe, vi concentrate sul film e se avrete la pazienza appunto di farvi coinvolgere anche dai silenzi, dai momenti in cui Susanna cammina per questa casa buia, antica, con una storia, se vi lasciate trascinare da lei dentro questa storia, io vi garantisco che avrete un paio, se non di più, di momenti in cui vi cagherete letteralmente sotto, parola del gonz ragazzi, parola del gonz, io non mi cago sotto spesso, questo film un paio di momenti aveva la pelle d'occa, quindi è un film ben fatto, di un genere che non è il mio preferito, ma che se è fatto bene lo apprezzo tantissimo, dove non è un film ricco di significati o messaggi politici o sociali, però c'è una prima parte iniziale molto bella, tenera, drammatica, in cui si vuole raccontare la difficoltà psicologica di chi è costretto per amore o per condizioni esterne di forza maggiore, diciamo a occuparsi di anziani, anziani molto anziani, che hanno bisogno di tutto, di essere lavati, cambiati, e che sono difficili insomma da gestire a livello sia fisico che psicologico, quindi veramente la prima parte è toccante anche, se vi fate coinvolgere da questa situazione dove appunto Susanna ama sua nonna, la ama tanto e non si tira indietro a pulirle il culo, a lavarla, a imboccarla e a sopportare certe cose che farà la nonna, quindi da quel punto di vista c'è anche un tema sociale interessante e su cui ha voluto mettere l'accento sicuramente la storia. Come scrive giustamente nei commenti Alka, componente psicologica molto coinvolgente, sì, è un film che è capace, è un film di un oro psicologico assolutamente ed è capacissimo, bravissimo, però dovete metterci anche voi il vostro impegno nel seguire, capacissimo nel coinvolgerti e farti entrare dentro la testa di Susanna. Addirittura c'è una scena in cui è inquadrata la nuca di Susanna e la telecamera si avvicina sempre sempre di più fino a entrare dentro la testa quasi, fino a sparire dentro la testa della protagonista. Questo perché lui, il regista Paco Plaza, è molto bravo a creare delle inquadrature che possano farvi sentire lei. Quindi per esempio c'è una inquadratura in cui lei si alza dal letto e la soggettiva della telecamera fa lo stesso movimento rotatorio di lei che si alza dal letto. Quindi il tentativo è quello proprio di farvi immergere nel personaggio. Voi siete Susanna quando guardate il film, non siete nessun altro personaggio. E alla fine ci riuscirà, e per questo un paio di momenti saranno proprio da cagarsi sotto. E penso che sia molto bello che ci siano ancora horror così semplici nel racconto, ma raccontati così bene che possono comunque spaventare. Questo è un film dove la trama è spoilerata sin dall'inizio. Io non ve la spoilerò perché non sono così crudele, ma in realtà le prime sequenze vi raccontano esattamente che cosa accadrà. Questo per dimostrare che la bellezza di un film horror non sta sempre e comunque nei colpi di scena o nelle rivelazioni finali, ma nel come racconti una storia. Quindi in realtà viene rivelato già come andrà a finire il film, però è molto molto coinvolgente lo stesso. E questo dimostra la grande bravura di Paco Plaza, che tra l'altro gira un film molto elegante, molto pulito, molto sofisticato, dopo aver fatto comunque insieme a Balagueró un fan footage tra i più storici, diciamo, un film che finge di essere tutto ripreso con una telecamera e molto realistico, diciamo, con una fotografia molto realistica, molto televisiva. Questo è un po' tutto per il film. Secondo me è veramente un ottimo film di paura, proprio un film di paura. Ben fatto. Vorrei veramente stringere la mano a questa attrice che veramente l'ho trovata, oltre che bella, bravissima. Nonostante comunque sia una giovane attrice, veramente brava. Veramente brava. E anche l'attrice che interpreta la Buela, di cui adesso cerco il nome perché voglio Pilar, si chiama il personaggio Vera Valdez. Posso solo dire che sono rimasto affascinato da come una donna comunque di quell'età lì si sia rimessa in gioco. Intanto per recitare, perché veramente comunque è faticoso. È faticoso recitare. Abbia fatto delle scene di nudo pazzesche, in cui mostra il suo corpo vecchio, ormai veramente c'è, ha un livello di vecchiaia incredibile, e prova una profonda stima per una donna che si è mostrata nuda a 80 passanni per un film. e anche l'eleganza con cui Paco Plaza ha raccontato il suo corpo, il suo invecchiamento, è qualcosa di meritevole. Quindi veramente complimenti alle due attrici principali e a Paco Plaza anche per veramente il grande rispetto, la grande sensibilità con cui ci mostra tutto il corpo di questa donna. dei complimenti. È veramente un film interessante. Niente, questo è tutto per la recensione della Buella Legami di Sangue di Paco Plaza. Se volete comprarlo, penso che lo troviate su Amazon, se no sul sito Fan Factory della Midnight Factory. se no anche appunto se fate l'abbonamento, forse se siete nuovi potete sfruttare anche il periodo di prova gratuito su Prime c'è il canale di Midnight Factory dove penso potrete trovare già questo film, se no uscirà tra poco. Penso ci sia già. Grazie. Grazie.